Ho trovato una cosa che dà molto fastidio a Bruno Urla ogni volta che gli tocco la pancia Dato che lui è molto dispettoso nei miei confronti Oggi lo sarò io La reazione Bruno, ma sei pazzo? Lascia, lascia Eccolo Non ci provare a ribellarti Vieni qua Vieni qua Per arrabbiare, eh? Che io posso farlo? Eccolo Un po' attomaccio, secondo me